Inaugurata sul lungomare di Alghero una nuova idea di intrattenimento. Nasce infatti dalla collaborazione di Luigi Carossino e Gianmario Piredda il Lounge Bar Holiday Club. Una struttura sulla spiaggia dell'Ido interamente rinnovata, con gazebo, comodi divani, ma soprattutto musica dal vivo e cocktail di prima qualità. Quindi abbiamo deciso appunto di sfruttare sia il panoramico che appunto ci concede Alghero che un bello stabilimento già sulla spiaggia per creare qualcosa di nuovo e di carino. L'idea nasce un po' da rimettersi in gioco e da qui è nato il progetto del Beach Party. Domenica la serata inaugurale ha riscosso molto successo, soprattutto fra i giovani. Il nuovo locale offrirà servizio dal venerdì per tutto il weekend, dalle 18 fino a tarda serata.